Sì, grazie Presidente, effettivamente di questo argomento ne abbiamo parlato lungamente, teniamo presente che noi non crediamo che questa sia stata la valutazione del centro carni che stiamo inserendo nei bilanci di AMA e nel poi complessivo piano di risanamento è la giusta valutazione del centro carni e non è esattamente una svalutazione, io vorrei ricordare a tutti i cittadini che ci stanno ascoltando che di fatto la valutazione che era stata inserita all'interno della consigliatura alemanno cedendo Roma Capitale a AMA il centro carni indicando che in questo posto si potevano effettuare dei palazzi e delle palazzine e che ne avrebbe potuto trarre un beneficio a AMA dal valore del terreno che ne derivava il in realtà allora non furono effettuati gli atti conseguenti per far sì che questa valutazione fosse davvero concreta, ricordo che bisognava passare necessariamente per una variazione variante urbanistica in aula che non c'è stata e questo ha generato un problema molto serio nella valutazione del centro carni, tant'è che ora con tutto l'interesse che c'è della magistratura sui bilanci di AMA per le vicende che ci sono state ultimamente, si è arrivati a determinare che bisognava necessariamente riportare alla valutazione corretta il centro carni e dunque portarlo da 116 milioni a 24 milioni e abbassandolo di 92. questo è contemporaneamente stato effettuato, è stata realizzata una cabina di regia a cui hanno partecipato moltissimi attori dove sono state valutate varie azioni di sviluppo del centro carni, questa cabina di regia è arrivata a un punto di chiusura il 4 di marzo, ha mandato la relazione ed è arrivata a tutti i consiglieri correttamente, la cabina di regia ha detto non siamo noi che dobbiamo decidere quello che bisogna fare del centro carni, poniamo solo alcune idee su quello che va fatto, poi gli organi competenti dovranno decidere e ovviamente ne parleremo adeguatamente nel consiglio straordinario che viene richiesto, ma le due cose sono un po' separate tra di loro e pertanto dichiaro il voto contrario della maggioranza a quest'ordine del giorno, grazie.